I grandi maestri e le generazioni emergenti sono protagonisti quest'anno ad Artigianato e Palazzo. La mostra aggiunta alla ventottesima edizione mette a confronto 90 protagonisti di oggi e di domani, tra il Giardino delle Limonaie e il Palazzo Corsini nel centro di Firenze. Uno sguardo privilegiato sulle migliori maestranze a livello italiano ed europeo, sulle lavorazioni storiche e sulle botteghe artigiane. Artigianato e Palazzo offre l'opportunità di ascoltare dalla viva voce gli artigiani la storia della loro bottega e di lavorazioni secolari. Gli oggetti che sono realizzati con le tecniche fiorentine, quindi stile fiorentino tradizionale, diciamo però sempre riportato con forme nuove, quindi un qualcosa, questo mix fra tradizioni storiche e quelle forme magari più innovative, più giovani, più fresche che insomma ci permettono di avere sempre un pubblico molto vasto. Produco stole, accessori per la casa e per la persona su telai manuali di mia costruzione e utilizzo soltanto fibre naturali come lana, cotone, canapa, lino eccetera. Ho imparato questo lavoro da mio zio con cui ho lavorato per circa sei anni, dopodiché con l'impulso di provare a trovare la mia strada ho aperto la mia ditta. Siamo specializzati nella ceramica e nel vetro soffiato, in particolare la nostra oggettistica come si può vedere ruota attorno all'oggetto da bevuta, quindi caraffe e bicchieri che interpretiamo in varie forme, in vari stili cercando di creare un continuum estetico tra il vetro e la ceramica. Ecco diciamo che sono due materie, due lavorazioni per cui l'Italia e il Veneto in particolare è molto famoso e noi insomma lottiamo e cerchiamo di diffondere quest'arte qua che è sempre più rara. È un mondo che fa parlare l'antico con il moderno perché c'è una grossa ricerca archeologica, tutte le pietre hanno un'ispirazione archeologica, andiamo dai pavimenti di San Vignato ai mosaici di San Marco, a simboli greci e romani, però poi c'è anche il riutilizzo di alcune tecniche antiche tipo la granulazione etrusca, ma riviste in chiave moderna. Quest'anno la mostra Principe della Rassegna è dedicata al Consorzio Verapelle Italiana Conciata al Vegetale. L'esposizione racconta come la Toscana sia stata capace di creare nei secoli la cultura di un prodotto che da umile è diventato iconico, la vacchetta toscana. Un abile lavoro di squadra, come sembra voler sottolineare l'installazione a braccio realizzata da Cosimo Bonciani con le maestranze della comunità di San Patrignano. Artigianato e palazzo sottolinea lo stretto legame che da sempre c'è tra gli artigiani e il turismo. Un rapporto evidenziato nello stand di Toscana Promozione Turistica nella biblioteca di Palazzo Corsini. Fondamentale è l'attrattività dei nostri artigiani artistici nell'ambito dei percorsi e dei itinerari che si possono costruire nella nostra regione. Coscienti come siamo e soprattutto un certo tipo di viaggiatore colto riesce ad apprezzare con grande attenzione non solo l'abilità dei nostri artigiani, ma la storicità di queste produzioni che spesso sono attività, come si vede nell'installazione che abbiamo generato, che addirittura derivano dagli etruschi, dalla grande storia dei nostri territori.